Ciao, sono Achim Mastur. Oggi mi diverto sfidando Carlo a FIFA 14 e sul campo vero. Ciao, sono Carlo, il mio primo è FIFA e voglio diventare un programma. Prima giocheremo sul campo uno contro uno per vedere chi farà prima cinque gol. E poi giocheremo nel Pia 14. Infine sommeremo i gol per vedere chi avrà vinto, ma sia già chi ha vinto. Inizia. Oh! Ahaha! Inizia a zero! Ah, what the heck? Oh! F***! Oh! 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 1 a 1. 2 a 1. No, Pia fallo. No, non è un fallo. Ehi! Oh! 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 Io prendo il tuo carri e io guardo il tuo ferito in Genova. Io prendo il Madrid, ma la mia squadra è ferita. Nooo! 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 Calendari per il ballo. Imi Cheney! Ena è in per il metto! Perciò un gol! Oh! Oh! Questa faccia! Sì, 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 ho vinto, 7-5 per te. Bella partita. Bravo. 7-5 per te. Non sono contento, ma tu fai un bella partita, 3-2. Non è male. Di allenare. Oggi è stata una bellissima giornata, mi sono divertito molto. Sul campo ero molto sicuro di vincere, invece alla PlayStation pensavo proprio di perdere. Invece sono due due ore, sono molto contento e ho vinto.